E' l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buon ascolto. C'è la politica in primo piano con la vittoria di Antonio Battista alle primarie di Campobasso, dato per favorito alla vigilia del voto. La sua affermazione è andata anche oltre le previsioni, così come oltre le attese è stata la partecipazione dei cittadini di Campobasso che in 5.000 si sono messi in fila al gazebo. Ci dice tutto in questo servizio Giovanni Minicozzi. Una grande partecipazione democratica che ha superato ogni più rose aspettativa ha caratterizzato le primarie del centro-sinistra attraverso le quali è stato scelto il candidato della coalizione a sindaco di Campobasso. Nei quattro seggi hanno votato ben 5.000 elettori, tra i quali una quarantina di sedicenni. Il preselezionato è Antonio Battista, consigliere comunale in carica, ex assessore e segretario organizzativo del PD gestito da Dalilo Leva e da Roberto Ruta. L'aspirante sindaco ha stravinto con oltre il 31% di consensi e ha sbaragliato gli altri sei concorrenti, incassando ben 1.532 preferenze. A debita distanza Bibiana Chierchia, sostenuta da Paolo Frattura e dal suo entourage, dall'Italia dei Valori, da Selle di Domenico Ioffredi e dal vice segretario unico del PD Michele Di Giglio. La professoressa ha ottenuto 948 voti, 19%. A seguire Michele Durante, 795 voti, 16%. Pietro Colucci, 707 voti, 14%. Augusto Massa, 562 voti, 12%. Pino Libertucci, 320 voti, 7%. E infine Giovanni Muccio, 49 voti, 1%. Paolo Frattura ha ringraziato i vincitori delle primarie di Campobasso e di Termoli, ma anche tutti i candidati che hanno consentito, ha detto, una grande partecipazione. Continuiamo così, tutti uniti, per conquistare la grande vittoria del 25 maggio, ha aggiunto il Presidente. In realtà, però, le primarie di Campobasso hanno certificato la rivincita di Roberto Ruta sulla coppia Frattura-Fanelli, pungente la dichiarazione a caldo del Senatore. Ha vinto la partecipazione e la democrazia contro chi ha tentato fino all'ultimo di annullare le primarie, ha detto Ruta. Ha vinto, ha aggiunto, una persona seria e competente che pensa solo al bene comune e non agli interessi privati. Dunque, con una sola battuta, Ruta ha messo nell'angolo la coppia Frattura-Fanelli, un'altra stoccata e poi arrivata dall'ex segretario Dalilo Leva. Vedere oggi Antonio Battista, responsabile di organizzazione della mia segreteria, trionfare alle primarie di Campobasso mi rende felice, emotivo, di grande orgoglio ed emozione. E il segno tangibile, ha concluso Leva, che quel gruppo dirigente non era poi così alieno alla realtà. Insomma, a distanza di un mese e mezzo dalla schiacciante vittoria del 16 febbraio, la coppia Frattura-Fanelli già traballa e intanto la resa dei conti nel PD continua. E il giorno dopo le primarie, Antonio Battista, scelto dagli elettori del centro-sinistra, quale candidato sindaco di Campobasso, si gode la vittoria e al tempo stesso guarda la campagna elettorale che si annuncia difficile. Sentiamolo in questa intervista realizzata da Anna Maria Di Matteo. È lui il vincitore delle primarie del centro-sinistra a Campobasso e Antonio Battista, capogruppo PD uscente al Comune, il candidato sindaco della coalizione alle elezioni di maggio. Battista ha sbaragliato tutti ottenendo 1.532 preferenze con una percentuale pari al 31,18%. Una vittoria netta, ampia, l'investitura ufficiale degli elettori del centro-sinistra a rappresentare l'intera coalizione e la corsa per lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio. Il primo pensiero vanno alle 5.000 persone che si sono messe in fila ai nostri quattro gazebo. Il mio risultato è stato chiaro, non inquinato, trasparente, pulito, così come è stata costruita tutta la candidatura. Però ecco, il merito di questi risultati, consentitemi di condividerlo con gli altri candidati che si sono misurati con me in questa competizione. Si aspettava la vittoria soprattutto in questi termini? Mi aspettavo la vittoria. Io, insieme agli amici, a chi ha sostenuto questa candidatura, l'abbiamo fatta perché dovevamo e potevamo vincere. Ci siamo rivolti alla gente semplice, alla gente umile, alla gente che tutti i giorni percorre e vive questa città. Il percorso delle primarie comunque ha incontrato anche qualche ostacolo. Lei si è scoraggiato, ha pensato magari di fare un passo indietro in qualche momento? No, mai. Anche perché io sono all'interno del sistema del centro-sinistra, del Partito Democratico e dico queste cose con orgoglio. La massiccia partecipazione alle primarie vuole dire anche voglia dei cittadini di cambiamento. Il campo basso può cambiare? Decisamente sì. Mi propongo come un uomo del cambiamento. Ho la giusta esperienza e ho conservato intatta la passione e l'energia di qualche anno fa. Se mi sono candidato è soltanto perché sentivo e sento il peso, ma sento ancora la possibilità, ci credo, al fatto che questa città possa cambiare. Nel frattempo resterà ancora in Consiglio Comunale? È una riflessione che farò nelle prossime ore, anche se siamo alla scadenza praticamente del mandato. Però ecco, voglio avere una completa agibilità durante la campagna elettorale, voglio avere anche un rapporto corretto con i cittadini senza che possano inquinare il mio rapporto con le istituzioni. Farò delle valutazioni nelle prossime ore. Sia a Termoli che a Campobasso è stato il commento di Micaela Fanelli. Hanno vinto i candidati del Partito Democratico e questo, ha aggiunto, ci rende felici e orgogliosi. Secondo la segretaria del Partito Democratico è stata una competizione a viso aperto, senza pacchetti preconfezionati. Ora lavoreremo compatti a sostegno dei due vincenti con uno spirito di squadra, ha concluso Fanelli, per rilanciare Campobasso, Termoli e il Molise. E a Termoli il popolo delle primarie ha scelto come candidato sindaco Angelo Sbrocca. Affermato avvocato e amico dell'ex sindaco greco, Sbrocca punta alla trasparenza e non chiude a possibili alleanze con il centro. Ce ne parla Manuela Iorio. Affermato avvocato, 49 anni, collaboratore dell'ex sindaco Vincenzo Greco, tanto che durante la sua amministrazione si è occupato della società di trasformazione urbana TUA. E' questo l'identikit di Angelo Sbrocca, l'uomo che guiderà la coalizione di centro-sinistra per la corsa a sindaco di Termoli del 25 maggio. Il suo nome è stato scelto dai cittadini, da quelle primarie che nella giornata di ieri sono riuscite a portare 2.000 persone a esprimere la loro preferenza. Sbrocca, tessera PD, ha ottenuto 648 voti, Antonio D'Ambrosio, candidato dell'Italia dei Valori, 538, Oscar Scurti, appoggiato dalla deputata Laura Venitelli, 437, Simone Coscia, candidato per SEL, 291, e Michele Giuliano, sempre per il PD, 64 preferenze. Il lavoro più difficile per Sbrocca arriva adesso. Ci sono da intessere possibili alleanze e poi si cerca di recuperare il rapporto con Paolo Marinucci, che si è sfilato dalle primarie per correre da solo a sindaco della città. Credo che sia stato un grande successo, un successo del centro-sinistra ed in particolare del Partito Democratico. Quali sono le priorità? Non c'è una priorità in particolare, perché Termoli ha tanti e gravi problemi che bisogna tutti risolvere. Sicuramente la priorità preliminare è quella della trasparenza del palazzo. Il cosiddetto centro è ancora alla ricerca di una posizione. Si potrebbe pensare a una possibile alleanza? Perché no? Io non escludo assolutamente nulla, perché dobbiamo vedere le cose che ci accomunano con il centro e quindi valutare, non peraltro la coalizione è di centro-sinistra, quindi non è di sinistra. Dobbiamo valutare tutte le cose che possono unirci per una vittoria al Comune. Secondo lei riuscirà a convincere gli alleati più vicini alla sinistra tradizionale? Spero di sì, spero di sì. Io credo che gli alleati sono dotati di gran buonsenso politico e quindi capiscono quanto è il momento di aderire e quando è il momento di vincere. Paolo Marinucci, invece, è possibile cercare di recuperare un rapporto con lui? Ma il rapporto non si è mai interrotto, perché con Paolo Marinucci sono più le cose che ci accomunano da quelle che ci dividono. Quindi io credo che sia possibile ritrovare un senso comune, un cammino comune e spero di poterlo fare al più presto. La ripresa a livello mondiale è in atto, si sta percependo in maniera sensibile e noi ci auguriamo che possa esserci anche in Italia. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, all'Assemblea degli Industriali del Molise che si è svolta questo pomeriggio a Pozzilli. Secondo Squinzi bisogna lavorare per fare le pulizie al proprio interno. Sarebbe a dire, ha spiegato il numero uno di Viale Astronomia, quelle riforme istituzionali e gli investimenti nella direzione giusta che potrebbero farci cogliere una situazione che a livello mondiale, ha aggiunto, è in miglioramento. Squinzi ha poi precisato di non aver mai litigato con il Premier, ma che le polemiche vengono montate dai giornalisti. Il presidente di Confindustria, infine, ha parlato anche del decreto economico e finanziario. Dobbiamo prima vederlo, ha detto, poi faremo le nostre valutazioni. Lo stesso vale per le riforme, è ancora presto per giudicare. Dichiarato ammissibile, cambiamo argomento, il concordato dal Tribunale di Isernia. L'ITR quindi ha presentato richiesta di cassa integrazione straordinaria a zero ore per tutti e 600 i suoi dipendenti. Intanto vengono fuori però novità sulla maxitruffa da 10 milioni realizzata con la complicità di un dipendente. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. È partita da Pettoranello la richiesta di cassa integrazione straordinaria per tutti i dipendenti TR. Si tratta del primo passo della procedura concordataria che ha visto approvare la richiesta dal Tribunale di Isernia. La cassa straordinaria dovrebbe durare fin quando non ripartirà la produzione della New Company sotto la guida di Antonio Rosati. Si parla nella fase di stop produttivo di una cinquantina di persone al di là dei cancelli per garantire i servizi essenziali e poi di circa un centinaio. A questo numero si dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Intanto però è un'altra vicenda legata all'ITR che tiene banco, quella dell'incredibile scoperta fatta da Guardia di Finanza e Procura di un singolare giro di mazzette che girava intorno all'azienda. La bomba l'ha fatta esplodere l'avvocato Arturo Messere costituendosi come parte civile a nome dei tre commissari straordinari Chimenti, Spada e Ciccoli. Sono loro che chiedono un mega risarcimento di 10 milioni di danni a sette indagati. Tra loro un ex dipendente ITR di 49 anni che, è scritto negli atti giudiziari, avrebbe intascato ben 166 mila euro a mezzo di assegni circolari in cambio del suo visto si paghi su fatture grossolanamente false, fatture taroccate per un ammontare complessivo di 10 milioni. L'udienza davanti al GUP il prossimo 15 maggio, quando dovranno comparire, davanti al giudice per l'udienza preliminare, ben sette indagati, tra loro l'ex dipendente che avrebbe preso tangenti con assegni circolari, un consulente dell'ITR di Isernia di 48 anni, più cinque fasonisti e produttori esterni, due di Pesche e gli altri di Assisi e Carpi. Una storia che sembra un giallo scritto coi piedi, perché da che mondo è mondo le mazzette si pagano e si prendono in contanti, proprio per non far rintracciare la provenienza del denaro. Invece il dipendente infedele dell'ITR avrebbe preteso e ottenuto il pagamento della sua complicità nella truffa e danni dell'ITR con assegni circolari. Probabilmente il primo caso in Molise, ma forse anche in Italia. Ben 10 milioni spese, a quanto se ne sa, nell'acquisto di appartamenti e attività commerciali a Isernia e Vasto. Ma sempre sull'ITR le sorprese non finiscono mai, infatti ci sarebbero anche altre notizie relative a dirigenti che lavoravano per l'azienda molisana e contemporaneamente avevano contratti di consulenza con fasonisti a cui delegavano gran parte delle produzioni. Così come altri dirigenti sarebbero stati presi con le mani nel sacco e allontanati con discrezione. Ma l'impressione è che più si va avanti e più verranno fuori sorprese magari arricchimenti sospetti e case e ville comprate con soldi illeciti. Rientra lo stato di agitazione proclamato dai dipendenti della Molise. La decisione è stata assunta al termine della riunione che si è svolta in prefettura tra la regione, i sindacati e i vertici della società. La regione ha dato disposizione per il pagamento delle tre mensilità retrate, annunciando inoltre che la convenzione rescissa da molti mesi con la Molise dati potrebbe essere pronta tra un mese. I sindacati e i lavoratori sono cautamente ottimisti. Il pagamento degli stipendi rappresenta una boccata d'ossigeno in attesa che la vertenza venga definitivamente chiusa con la stipula della nuova convenzione. C'è una nuova grana allo zuccherificio del Molise e questa volta 16 dipendenti rischiano di essere licenziati dal 1 maggio se la politica non prende una qualche decisione. È duro l'attacco del Comitato dei lavoratori e dei sindacati. Sentiamo ancora Manuela Iorio. Sempre più incertezza per le sorti dello zuccherificio del Molise. Si lavora per emergenze e dicono dai sindacati che non c'è programmazione per il futuro. È l'ultima emergenza in ordine di tempo. Una delle tante è legata alla sorte di 16 lavoratori in esubero e in distacco presso l'Agnuco che stando all'accordo dell'ottobre del 2012 dovevano essere riassorbiti dall'azienda. In questo anno e mezzo, fatto di alcuni mesi di cassa integrazione e di continui rinnovi del distacco, i dipendenti hanno continuato a lavorare in fabbrica. Ma ora in vista c'è l'ultima scadenza, quella del 30 aprile e se la politica non prende una decisione, dal 1 maggio i 16 operai saranno messi in mobilità, dunque licenziati. È sufficiente che la regione Molise e gli amministratori dello zuccherificio si riuniscano e mettano una firma su un pezzo di carta, scrive in una nota il Comitato dei lavoratori. Alzatevi dalle sedie e girate il Molise per capire molti drammi che vivono i molisani, non fatevi vedere solo in campagna elettorale, affermano ancora i lavoratori, riferendosi agli amministratori regionali. E proprio su questa scia anche Antonio Dilisio, RSU della CGL, invita una programmazione seria a lungo termine per rilanciare davvero lo zuccherificio di Termoli. Basta far politica e basta primarie, bisogna pensare ai problemi della regione, tuona il sindacalista. Per questo è stato chiesto ancora una volta con insistenza un incontro in regione e da oggi in fabbrica è partito anche lo stato di agitazione. Il tutto mentre sullo sfondo c'è ancora da risolvere il problema del bilancio da mettere in pareggio e dell'accordo con i bieticoltori che non hanno ancora rinunciato ai soldi che gli spettano. Ormai non fa più notizia il viaggio in treno che non arriva mai tra Campobasso e Roma. Ancora una volta i passeggeri vengono trattati come fossero bagagli di un treno merci. Sentiamo Giovanni Di Tocca. Le immagini sono scaricate da YouTube e non si riferiscono all'ennesimo viaggio da Campobasso a Roma sopportato da decine di passeggeri che ancora una volta sono rimasti su uno dei soliti scalcagnati treni qualcosa come 5 ore abbondanti. È accaduto ieri a chi è salito sui vagoni della Freccia del Molise. A proposito, sarebbe il caso di cambiare almeno nome a quelle tre littorine che non superano i 100 orari in rettilineo che alle 5.52 ha lasciato i binari della stazione di Campobasso. Tre ore più tardi sarebbe dovuto arrivare a Roma ma ad un certo punto la spuntatissima Freccia si è fermata in aperta campagna e la capitale per i passeggeri è diventata subito un miraggio. Guasto meccanico e un'ora e mezzo di ritardo. Treno peraltro affollatissimo da pendolari rientrati in Molise per il fine settimana tanto che molti viaggiatori ha detto chi era sui vagoni erano seduti addirittura a terra. Gente che lavora e studia a Roma e che, ha sottolineato più di qualcuno, a questa specie di trasporto merce ha fatto l'abitudine. Resta da capire se la voce grossa che si fa in Molise arrivi a Roma e alle orecchie di Trenitalia come una specie di sussurro fastidioso perché se così fosse e così in effetti pare presidente di regione e suo delegato assessore ai trasporti insieme ai parlamentari dovrebbero alzarla un po' di più quella voce. Gli annunci di Trenitalia stanno a zero così come i dibattiti e le tavole rotonde sui raddoppi di linea, sui potenziamenti delle corse e su altre amenità varie. Siamo sempre più vicini a questo modo di viaggiare che è un dignitoso e non supersonico viaggio che in tre ore collega Campobasso alla capitale d'Italia. È finito contro un albero in pieno centro a Montenero Libisaccia un autobus carico di studenti erano circa le 13 quando il conducente del pulmino che stava riportando a scuola 20 alunni del professionale dopo la lezione di educazione fisica ha avuto un malore perdendo il controllo del mezzo solo la prontezza del docente che è riuscito a tirare il freno a mano ha evitato il peggio il bus ha finito la sua corsa come vedete tra un albero e un muretto tanto spavento fortunatamente nessun ferito l'autista di 33 anni è stato portato al Santimoteo da un'ambulanza della misericordia le sue condizioni non sono comunque gravi il suo territorio di caccia era Facebook sul social network adescava ragazzine che in alcuni casi sarebbero state poi violentate un uomo è finito in manette ad Isernia sentiamo ancora Enzo Di Gaetano le conosceva su Facebook le circuiva e poi dopo averle portate a casa sua faceva bere loro degli alcolici e poi le stuprava si tratta di un giovane violentatore seriale che ora è in carcere a Isernia dopo un'indagine dei carabinieri su richiesta del procuratore Albano se fosse accaduto tra maggiorenni sarebbe solo violenza sessuale ma siccome tre delle sue quattro vittime erano ragazzine di soli 13 anni l'accusa è di violenza sessuale aggravata e pericolpevole un ragazzo di 23 anni di Carpinone è scattata la detenzione preventiva in carcere a Isernia la storia parte da lontano il protagonista è una vecchia conoscenza dei carabinieri di Carpinone nella sua famiglia già si sono verificati episodi sessuali poco chiari e suo padre era stato anche arrestato insomma niente di buono a dicembre dell'anno scorso il 23enne viene preso dai carabinieri mentre in auto portava con sé e altri due amici una ragazzina di soli 13 anni immediati sospetti dei militari che chiedevano di sentire alla ragazzina davanti a uno psicologo così veniva fuori la storia una brutta storia il 23enne l'aveva conosciuta su facebook poi portandola con lui l'aveva sedotta e violentata ci vuole poco per gli uomini dell'arma scoprire che la 13enne non era l'unica vittima i carabinieri accertano che il 23enne di Carpinone era un violentatore incallito il sistema era sempre il solito prima facebook e poi macchina casa e violenza era successo per altre 3-13enne e per una quindicenne tutte ragazze dell'Isernino la procura di Isernia aveva già chiesto l'arresto in carcere per lui ma il GIP aveva concesso solo i domiciliari ora la Cassazione accogliendo il ricorso del procuratore Albano giustamente indignato e preoccupato per gli aspetti di una vicenda così grave ha trasformato gli arresti domiciliari in arresti in carcere lì dove magari il 23enne potrà ripensare meglio a quello che ha fatto a quattro ragazzine poco più che bambine alla fondazione Giovanni Paolo II sono stati organizzati degli incontri di preparazione alla Santa Pasqua dipendenti e pazienti della struttura hanno partecipato insieme all'incontro presieduto dall'arcivescovo Bregantini c'era per noi Marcella Tamburello il periodo di Quaresima rappresenta da sempre la passione e la sofferenza dei cristiani i malati più di tutti sono oggi sofferenti per eccellenza sono loro insieme alle proprie famiglie a soffrire alla fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso è stato organizzato un cammino spirituale di preparazione alla Pasqua rivolto ai dipendenti della struttura agli studenti ed ovviamente a tutti i pazienti ricoverati il cammino iniziato il 24 marzo si concluderà lunedì prossimo la figura dell'apostolo Pietro è stata il fulcro su cui si sono concentrati tutti gli incontri all'ultimo dal titolo Pietro fede e lacrime la misericordia che riscatta ha partecipato l'arcivescovo Bregantini che ha parlato dell'importanza dell'apostolo che per tre volte rinnegò Gesù rappresenta per noi vertice della Quaresima chi si è preparato forgiato da Gesù da lui potremmo dire formato ma che conserva dentro la nostra fragilità perché davanti ai pericoli davanti a questo momento in cui è vagliato come il grano anche lui cade come cadiamo noi ma Gesù non lo lascia precipitare lo raccoglie lo rafforza e lo guarda e in quello sguardo d'amore Pietro si accorge del suo peccato purifica il suo passato prende coscienza del suo errore e piange è un piangio è un pianto amaro sia perché tragico ma soprattutto perché Pietro ha sempre amato Gesù anche quando l'ha rinnegato e quello sguardo di Pietro con cui lui si è sentito scrutato dentro da parte di Gesù è diventato lacrima di luce e di cambiamento e ora ci spostiamo a Verona al Vini Italy la più importante rassegna internazionale del vino il Molise comincia a ricavarsi un proprio spazio tra i colossi del settore vediamo anche quest'anno Telemolise non poteva mancare alla Fiera Internazionale del Vino e dei Distillati al Vini Italy 2014 per seguire gli espositori e quindi i produttori di vino molisano a rappresentanza appunto delle eccellenze della nostra regione in campo di vitivinicoltura un salone internazionale appunto che quest'anno ha raggiunto la 48esima edizione che è sicuramente una vetrina importante punto di riferimento e di confronto per tutti i settori coinvolti nella filiera del vino dai produttori appunto ai distributori ma Vini Italy è anche un'importante leva per il marketing territoriale quello del vino infatti è un settore che non ha conosciuto la crisi che invece tocca agli altri settori grazie all'utilizzo e all'espansione nei mercati internazionali e soprattutto alla produzione bio che sono si può dire le due parole chiave per questo Vini Italy 2014 e il Molise ben si inserisce in questa corrente di mercato 14 infatti sono le aziende vitivinicole molisane che dal 6 al 9 aprile espongono i propri prodotti i propri vini al Vini Italy 2014 8 si trovano nella stand della regione Molise altri 6 invece si trovano al di fuori come ogni anno infatti l'Union Camera Molise si impegna per organizzare appunto questo stand espositivo qui al Vini Italy e dare la possibilità dunque ai produttori ma anche ai futuri imprenditori e a tutti gli interessati del settore a partecipare affinché il Vini Italy sia appunto un'importante leva di sviluppo un campo di confronto e di crescita per la valorizzazione dei prodotti e dei territori del nostro Molise un impegno che continua ed è un impegno che noi portiamo avanti in stretta collaborazione con la regione Molise con l'assessorato all'agricoltura ovviamente di concerto con i produttori molisani e cerchiamo di presentarci a questa che è la vetrina vitivinicola più importante del mondo nel migliore dei modi noi l'anno scorso eravamo presenti ad esempio qui allo stand istituzionale con 6 aziende e quest'anno ce ne sono 8 di queste 8 ce n'è anche una che noi definiamo matricola o nuova esportatrice intendendo con questo termine aziende che diciamo non sono presenti ancora sui mercati esteri o lo sono solo in maniera marginale e questo appunto anche per tornare al discorso di prima dell'incentivo ai giovani ad intraprendere un'attività imprenditoriale ecco diciamo che il sistema camerale sta puntando in maniera particolare su questo settore del sostegno alle aziende matricole proprio per favorirne il processo di internazionalizzazione ed è stata inaugurata nell'atrio della provincia di Campobasso la mostra organizzata dalla cooperativa sociale laboratorio aperto le opere resteranno in esposizione fino al prossimo 18 aprile allora sentiamo ancora Marcella Tamburello quadri oggetti legno e vetro bigiotteria orologi ma anche un angolo per i più piccoli e uno dedicato alla Pasqua sono le creazioni artistiche dei ragazzi della cooperativa sociale laboratorio aperto di Campobasso che da oggi e fino al 18 aprile saranno in esposizione nell'altro della provincia passione e voglia di fare sono le spinte propulsive dei ragazzi della cooperativa che opera nel settore dell'inserimento di ragazzi svantaggiati e con problemi psichici inauguriamo oggi una mostra che diciamo ci permette un po' di rilanciare le attività della nostra cooperativa quindi innanzitutto ringraziamo la provincia che ci mette a disposizione questo posto per diciamo al centro della città come possiamo vedere ci sono degli oggetti creati appositamente per la Pasqua per questa festa e poi abbiamo dei quadri realizzati in particolare da Giovanni Guerriero che è un po' il nostro artista di punta diciamo così e c'è anche un diciamo l'unico rappresentante del Trump l'Oil diciamo questa tecnica che è stata realizzata per abbellire il reparto di psichiatria dell'ospedale cardale di Campobasso la cooperativa a laboratorio aperto lavora a stretto contatto con il dipartimento di salute mentale di Campobasso con l'obiettivo di aiutare i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro spesso diciamo queste persone vengono semplicemente etichettate quindi diciamo vengono già un po' emarginate dalla nostra realtà però conoscendoli facendosi compagni di viaggio delle loro diciamo vite diciamo scopriamo che sono delle persone con delle caratteristiche delle peculiarità che sanno esprimersi attraverso anche diciamo delle creazioni attraverso l'arte e che riescono anche a convivere con quella che è una malattia qui in provincia questi oggetti sono in esposizione però possono essere anche acquistati dove? noi siamo in via Pasubio a Campobasso nei locali che sono dell'UACP e da poco abbiamo anche rinnovato abbiamo anche diciamo in qualche modo ristrutturato per dare un tocco di novità anche lì e sono diciamo questi oggetti in esposizione possono dare l'idea di quello che possiamo realizzare Toro è in lutto per la scomparsa della nonna del Molise una delle più anziane della regione che è deceduta a 107 anni tutto il paese domani saluterà Maria Diletta Rosso di vita nata nel 1907 i funerali sono in programma nella chiesa di San Salvatore alle 16.30 era l'ultima notizia termina qui il nostro telegiornale ed io vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete l'informazione di Telemolise buonanotte di Telemolise di Telemolise salvia di Telemolise